Lorenzo, partita dura oggi con la Fiorentina qui in casa, cos'è che non è andato per il verso giusto all'inizio? Ma è un po' loro che hanno messo pressione quasi subito e hanno trovato una giornata al tiro da tre veramente che poche squadre riescono a fare tirando con più del 50 con 17 bombe e un po' noi che in questi ultimi periodi anche contro Vefarese siamo sempre in ritardo sui palloni facciamo sempre un passo, un secondo in ritardo e abbiamo subito la loro fisicità in difesa abbiamo subito le loro spaziature e il loro saper giocare la palla in attacco C'è stata una grande reazione però nel terzo quarto che mi ha permesso di arrivare anche fino a meno nove è una reazione che penso sia nata anche dall'orgoglio Sì, sicuramente, comunque noi giocavamo in casa all'intervallo, il coach ci ha fatto una strigliata anche comunque parlando di tirare fuori l'orgoglio perché davanti ai nostri tifosi non possiamo permetterci di mollare mai anche se siamo sotto 25, non so neanche quanto all'intervallo Siamo rientrati cattivi, ci abbiamo provato, siamo riusciti a fare un break positivo poi forse la stanchezza, forse loro che si sono rimessi un po' a posto sono ritornati su Grazie 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 Grazie